GIOZEMU INDIOLALALALA GIOZEMU INDIOLALALALA GIOZEMU INDIOLALALALA sono contento per Bow e anche per la Roma ma sono contento per Bow e ma Bow è bollito Bow non è un allenatore di calcio in cura a tutti quelli che l'hanno criticato la Roma batte 4-2 il Feyenoord e ci aggiudica anche nella semifinale l'Europa League doveva dove incontrerà i Bayern Evercusi una partita già semplice visto che i tedeschi sono una buonissima squadra una squadra di qualità una squadra che potrebbe fare bala che contropiede ma una Roma a te trova e quando si sveglia e diventa letale con un Dybala che è favoloso Dybala è favoloso un gol spaziale di Paolo Dybala che che risolve la partita visto che fino all'ottantonevesimo era 2-1 Feyenoord e era praticamente eliminata la Roma poi entra Paolo Dybala e fa il fenomeno giocatore spaziale Dybala su gol e 2 del 3-2 si permette di Paolo Dybala che fa la sponda dall'indietro poi grande triangolazione per le gridi Abram e poi esce alla porta vuota deve sarà di saccare e poi ancora Dybala che ha la palla per Abram una palla smattuta sul giocatore del freddo che poi va a finire su quest'ante che che segna ma una roba spaventosa quando gioca con un Batic che ha fatto una partita di sostanza una partita commovente come si suol dire una roba che si mette a questa qualificazione si merita anche la semifinale per quello che ha creato per quello che ha fatto è un buon video che diventa sempre più ora di coppia se non è sarà anche il fiale quest'anno quindi che questa vita qua non è sbaglia quasi pari ma vi ho bollito, vi ho bollito in tutto ciò vi saluto, sui Forza Inter GIOUSÈE BURIDIO LA 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 Ciao GIOUSÈE BURIDIO